10 e 30 in questo istante. Buongiorno a tutti puntualissimi, iniziamo una nuova puntata di Tempo d'estate. Bentrovati e allora ricordiamo subito che ci sono diversi modi per entrare in contatto con noi. Partiamo subito dal bandone che ci ricorda che è possibile seguirci e interagire con noi attraverso i canali social, ricordando che Padre Pio TV è visibile al canale 145 del Digitale Terrestre. Allora vi ricordiamo la nostra pagina Facebook, Instagram, il canale YouTube, Twitter e il nostro sito internet. Ecco, ricordato questo, ne ricordiamo anche il nostro numero WhatsApp per inviarci le vostre foto, cartoline, paesaggi di mare, montagna, campagna o semplicemente quello che state vedendo in questo istante dalla vostra finestra o dal balcone della vostra abitazione. Il numero è 331-737-8033, lo abbiamo visto in sovraimpressione. E allora andiamo anche a vedere l'immagine del sagrato di Santa Maria delle Grazie. Stiamo proprio vedendo live dal vivo, come direbbero gli inglesi o gli americani, l'allestimento di un arco di fiori perché sicuramente tra una mezz'oretta o giù di lì sarà celebrato un matrimonio e quindi fervono i preparativi per gli ultimi allestimenti e quindi poi per accogliere gli sposi nel santuario di Santa Maria delle Grazie perché questo è il periodo di matrimoni, di celebrazioni e quindi vedete anche qualche persona fedele, pellegrino sul sagrato di Santa Maria delle Grazie. Prima un nutrito gruppo di fedeli usciva proprio dall'ingresso laterale alla vostra destra. E allora, detto questo, partiamo subito con lo scoprire e quale fatto ha caratterizzato questa giornata nella storia. 5 luglio 1889. Nasce Jean Cocteau. Parigino per linguaggio, educazione, idee e abitudini, così amava definirsi. La sua famiglia apparteneva alla solida borghesia coltivata, ricca di raffinato gusto artistico. Nei decenni della belle époque, privi di tensioni politiche, poté dedicarsi alla musica, alla pittura, alla letteratura, divenendo poeta, drammaturgo, romanziere, regista, pittore. Allo scoppio del primo conflitto mondiale, l'atmosfera cambia radicalmente. Ma con i suoi amici, come XT e Pablo Picasso, crea opere in cui si mescolano prosa, poesia, musica, disegno. Originale, imprevedibile, versatile, a partire dal 1933, decide di consacrarsi al cinema e al teatro, con una rivisitazione personale dei grandi miti dell'umanità, come in Orfeo. In quest'opera espone la sua concezione dell'arte, passare metaforicamente dall'altra parte dello specchio, lasciandosi catturare dal mondo oscuro. È stato uno dei personaggi più rappresentativi degli anni 50. Eletto all'Accademia di Francia, incontra il filosofo cattolico Jacques Maritain, che lo riavvicina alla pratica religiosa e lo aiuta a liberarsi dalla dipendenza dalle droghe. Muore colpito da infarto l'11 ottobre 1963, lo stesso giorno della sua grande amica Edipiaf, l'usignolo di Francia. E allora, vogliamo quest'oggi ricordare un grande sacerdote, Don Pietro Sigurani. È da 61 anni sacerdote, è morto questa mattina, aveva 86 anni, un pretaccio, come scrive l'Avenire in questo articolo che gli dedica, di quelli senza fronzoli. Aveva realizzato la Casa della Misericordia nei sotterrani della Basilica di Sant'Eustacchio, di cui è stato fino allo scorso anno rettore, aveva realizzato un centro d'ascolto di assistenza legale e medica, di accoglienza con docce e lavanderia. E anche l'Università degli Scartati, perché come spiegò Don Pietro, ai poveri non bisogna dare solo pane, ma anche sollevare lo spirito. E poi se un piatto di pasta riempie la pancia, il caffè scalda il cuore. Lo scorso, no, di più, nel 2020, ecco questo è l'articolo del quale vi stavo parlando, pubblicato, appunto, firmato da Pino Ciociola sull'Avenire di Oggi. Mi correggo, Don Pietro è morto ieri mattina all'età di 86 anni, perché appunto l'articolo è datato 4 luglio. Nel 2020 ho intervistato Romano Cappelletto per la rubrica Tra le righe. Romano Cappelletto è responsabile dell'ufficio stampa delle Paoline. E nel 2020 Cappelletto con Elisa Storace ha scritto questo libro Intervista con Don Pietro, che racconta molti segni di accoglienza, il meccanismo di aiutare chi ha bisogno, e quindi racconta un po' la rivoluzione della carità. Ecco, ci sono anche alcune voci della cultura, della politica e della Chiesa. Il libro in questione si intitola Poveri Noi, edito dalle Paoline, con una bella immagine di Don Pietro, appunto, che con non poco sforzo tira con una fune la parola umanità. E proprio durante questa intervista molto bella con Romano Cappelletto, lo stesso Romano ci racconta dell'incontro tra Don Pietro Sigurani, ordinato sacerdote il 7 maggio del 1960, e Padre Pio era l'11 maggio di quell'anno. L'episodio è riportato in questo libro, ma vogliamo ascoltarlo dalla viva voce di Romano Cappelletto. Questo compadre Pio è fantastico, perché lui appunto arriva lì a San Giovanni Rotondo, va ad ascoltare la messa, e poi ovviamente cerca un incontro con Padre Pio. Cerca un incontro con Padre Pio, come tanti lo cercavano, per avere una benedizione da lui. Allora, si incontrano, e Padre Pio lo guarda, lo anticipa quasi, e gli dice, benedicimi. Naturalmente Don Pietro, che è un giovanissimo prete, rimane stupito, ha detto, come? Ma io devo benedire te, cioè tu sei Padre Pio, insomma, io sono qui per essere benedetto da te. E Padre Pio insiste con i suoi modi, insomma, lo conosciamo, come erano, insomma, molto forti, molto irruenti, e insiste, benedicimi, benedicimi, e capendo però, insomma, questo povero giovane prete era anche un pochettino timoroso, gli dici, tu non sei più, lo dice ovviamente in dialetto, ma tu non sei più un ragazzino, tu sei un prete, tu sei un sacerdote, e quindi sei tu che mi devi benedire. questo dunque è il ricordo di Romano Cappelletto, a proposito dell'incontro tra Don Pietro Sigurani e Padre Pio, era l'11 maggio del 1960, vi ricordo il titolo appunto di questo libro, molto bello, che racconta anche un po' la storia, il libro intervista che racconta la storia di questo prete davvero rivoluzionario della carità, Poveri Noi, edito dalle Paoline, firmato da Romano Cappelletto ed Elisa Storace. Bene, ecco, detto questo, è arrivato il momento di scoprire quale fiore o pianta, oggi più che altro è una pianta anche un po' non da tutti sopportata, ma da molti, da moltissimi amata. Andiamo nel Giardino Garden di Foggia con Un giorno un fiore. Buongiorno e benvenuti in un altro appuntamento della nostra rubrica Un giorno un fiore. Quando si avvicina l'estate, inevitabilmente alcune piante aromatiche fioriscono e fruttificano. Tra queste tipologie di piante sicuramente troviamo il peperoncino. Il peperoncino è quella pianta che troviamo su tutti i balconi degli italiani, un po' come il basilico, un po' come il prezzemolo. Il peperoncino però può essere anche utilizzato come decorazione nei nostri giardini perché questi colori accesi, variegati del frutto, danno quella nota di colore, quel movimento all'occhio vivace che è piacevole apprezzare. Sono delle piante, degli esemplari, che hanno diverse forme per la foglia e per la loro morfologia, diversi colori, diversi profumi, ma la cosa particolare è che hanno un grado di sapore, di piccantezza variabile. Ci sono i peperoncini che paradossalmente sono dolci, quindi hanno una piccantezza piacevole, è un retrogusto dolciastro. Ci sono quei peperoncini fortissimi, di un'acidità intensa e di una piccantezza molto particolare. E poi ci sono quei peperoncini easy, quei peperoncini un po' che troviamo facilmente ovunque e che possono essere utilizzati ovunque, proprio perché il loro sapore è leggero, va bene su qualsiasi pietanza. È un alimento che fin dall'antichità viene utilizzato, è una spezia che in passato veniva utilizzata, secca, per poter conservare alcune tipologie di alimenti. In passato infatti non era, quando ancora non erano presenti quegli strumenti di conservazione quali le celle, i frigoriferi e via dicendo, il sottovuoto attuale e così via, si escogitava la conservazione con il peperoncino. Si prendevano alcune parti del frutto e della pianta, si lasciavano seccare, si sminuzzavano e gli alimenti venivano ricoperti da questo strato di piccantezza che permetteva all'alimento di non degradarsi e di conservarsi a lungo. Un po' come il sale, un po' come il pepe e altre spezie, il peperoncino è conosciuto fin dall'antichità. È una pianta apprezzabile anche e soprattutto per i fiorellini, da cui poi si dipartono i frutti molto colorati. Infatti a volte i fiori hanno in genere una forma di stella marina, quindi a cinque petali e a sei petali. Ma la cosa particolare è il colore e la loro vivacità. A volte superano la grandezza di un centimetro o due centimetri al pari del fiore della melanzana e in base alla specie e al grado di piccantezza cambiano anche nuance, colore e quindi li troviamo davvero in diverse colorazioni. E resistentissima al caldo, ama il caldo. Infatti il peperoncino, per avere quel grado di piccantezza giusto, deve abbronzarsi, deve andare al mare, quindi deve stare al sole. Più sta al sole, più il frutto matura e diventa carnoso. In caso contrario abbiamo dei frutti verdi un po' leggermente saporiti. Ha bisogno di molta acqua, di un buon concime per piante da orto affinché possa fare molti più frutti e molti più fiori. E soprattutto, come vi dicevo prima, ha bisogno di molto sole. Quindi, come spezia, come pianta ornamentale o come pianta bella a vedersi, è un esemplare magnifico. È una pianta che in terrazzo ci dà comunque grandi soddisfazioni. E prima di andare in pubblicità abbiamo un aggiornamento che riguarda l'economia, il potere d'acquisto delle famiglie italiane. Secondo una rilevazione Istat, il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato del 2,6% rispetto al trimestre precedente. Tuttavia, però, per l'effetto generalizzato dell'aumento dei prezzi, il potere d'acquisto delle famiglie è cresciuto soltanto dello 0,3% rispetto al trimestre precedente. La propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari al 12,6%, in aumento di 1,1% rispetto al trimestre precedente. Insomma, questo è un aggiornamento economico che riguarda il potere d'acquisto delle famiglie italiane. Allora, ci fermiamo qualche istante, andiamo in pubblicità e poi, ancora insieme, parleremo di un articolo molto interessante scritto da una collega giornalista. 10.45, 46 tra qualche istante, eccoci insieme, proseguiamo il nostro tempo d'estate e lo facciamo parlando, partendo da un acronimo, NIT. NIT, che, stando alla definizione della Treccani, significa not in education, employment or training. Si identifica quella parte di popolazione tra i 15 e 29 anni che non è né occupata né inserita in un percorso di istruzione o di formazione. E c'è un articolo molto interessante, comparso sul mensile il segno dell'Arcidiocesi di Milano del mese di luglio-agosto, firmato dalla giornalista e scrittrice Laura Badalacchi, in collegamento Skype con noi questa mattina. Ciao Laura, benvenuta. Ciao a tutti, buongiorno e grazie per il vostro invito. Allora, partiamo appunto da questo acronimo, da questa situazione che tra l'altro di ragazzi che ne studiano, ne lavorano e che la pandemia ha anche accentuato. Da dove sei partita per scrivere questo articolo e poi quali sono state le voci importanti che hai ascoltato in merito a questo? Sì, io sono partita da una ricerca commissata dal Ministro per le politiche di Giovanni Fabiana D'Adovo e dal Ministero delle politiche sociali. Si chiama proprio NIT, questo rapporto, significato tra gli altri dal professore Alessandro Rosina e appunto docente di demografia e diversità cattolica in Milano. E appunto il quadro è molto scomportante perché vediamo che oltre treioni di giovani tra i 15 e i 34 anni in Italia non sono né occupati né studiano. Nella fascia 15-24 anni parliamo complessivamente di 1 milione e 100 mila giovani e poi ha ulteriormente aggravato questa situazione e quindi questa sospensione della loro vita. Quindi ecco, sia il professor Rosina sia la professoressa Elena Marta che è docente di psicologia sociale hanno analizzato il fenomeno che tra l'altro studiano da molti anni e quindi si denota poi un paradosso. Cioè l'Italia ha un bassissimo tasso di natalità eppure questi pochi giovani che abbiamo si trovano in questa situazione. Però loro suggeriscono poi delle strategie per poter uscire da questo tunnel. Certo. Allora, quindi hai intervistato queste due fonti autorevoli il professor Alessandro Rosina e la professoressa Elena Marta che hanno dipinto un quadro preciso sulla situazione. A proposito di strategie, quindi ci sono delle possibili soluzioni a questo? Sì, la prima soluzione che denotano è di potenziare i centri per l'impiego che in realtà adesso non sono presenti in maniera capillare su tutto il territorio nazionale e non sono molto, diciamo, attivi. Questi centri per l'impiego avrebbero proprio la funzione di incrociare l'offerta e la domanda delle aziende, degli imprenditori, dei datori di lavoro perché spesso queste due necessità, queste due facce non si incrociano. L'altra parte però molto interessante che denota la professoressa Elena Marta è l'incontro sul territorio personale. Cioè, gli studiosi dicono, per quanto riguarda questo problema, le campagne di sensibilizzazione Facebook, online o via radio non funzionano. Bisogna incontrare faccia a faccia questi giovani, bisogna tirarli fuori anche dal loro scoraggiamento, dalla loro disillusione, dalla loro mancanza di speranza. In che modo? Attraverso dei tutor e attraverso proprio anche degli educatori che anche con eventi sportivi, anche di divertimento, eccetera, conoscano questi giovani e li aggancino per poterli appunto incoraggiare e poter mettere a fuoco le loro competenze, le loro qualità e le loro risorse, ecco, per poter poi inserirli più possibile nel mondo del lavoro, fare un po' da ponte. Però mi ha colpito molto questo aspetto del rapporto interpersonale, di guardarsi negli occhi, di avere una conoscenza non virtuale, ma faccia a faccia. Ecco, questo durante la pandemia ovviamente ci è mancato e ci sta mancando ancora, perché purtroppo vediamo che la pandemia è tutt'altro che finita. però ecco, i giovani sappiamo che hanno sofferto in modo particolare di questa situazione, quindi sta anche a noi adulti, a tutti gli adulti impegnati in questo settore a cercare di creare più possibile questa interfaccia personale, anche attraverso le associazioni, il terzo settore, che possono, l'associazionismo cattolico, perché no, anzi, possano incontrare questi ragazzi e appunto dargli una speranza, dargli un futuro, perché questo è fondamentale. Stiamo facendo crescere una generazione che un domani che sta lavorando in nero, che si sta accontentando delle briciole e che un domani non avrà dei contributi pensionistici, insomma stiamo tarpando le ali al loro futuro, quindi è fondamentale come società civile anche prenderci carico di questa situazione, non soltanto a livello di politiche che comunque hanno il loro peso cruciale, ma qualcuno di noi può fare qualcosa. Ecco, mi è venuta alla mente un articolo pubblicato recentemente, non ricordo su quale, quotidiano, dei giovani cinquantenni che rubano il futuro ai giovani veri, e poi mi ha colpito anche il titolo scelto per l'intervista alla professoressa Marta, se non sbaglio, a riattivare una generazione che non si sente all'altezza, perché come giustamente dicevi tu, Laura, probabilmente gli effetti a lungo termine della pandemia che stiamo ancora vivendo, ecco, non li sentiremo domani o dopodomani, ma probabilmente anche tra qualche anno e sui giovani saranno davvero pesanti. Certamente, sappiamo anche che appunto i giovani hanno sofferto molto e soffrono di una depressione, ci sono i giovani poi che si chiudono in casa, nei casi estremi, ci sono i disturbi alimentari, ci sono una serie di disagi psicologici dovuti anche alla reclusione, alla chiusura, alla mancanza di socialità, e poi ecco al fatto che magari uno ha una laurea, ha studiato, si è sacrificato e poi non trova uno sbocco lavorativo, magari va all'estero e trova delle situazioni anche precarie e temporanee. C'è anche da dire che noi purtroppo siamo nel fanalino di coda in Europa, siamo il quattro ultimo paese appunto per l'inserimento lavorativo dei giovani, per il numero di NIT. C'è da dire anche che le famiglie italiane sono molto chioccia, cioè comunque i giovani hanno alle spalle una famiglia che li sostiene, che li aiuta. Questo da una parte è un bene perché non si trovano così in mezzo a una strada letteralmente, però dall'altra parte dovrebbe essere anche uno stimolo a parte delle famiglie stesse a cercare di aiutarli, anche se vedono questi momenti di scoraggiamento, di chiusura, eccetera, anche trovare degli strumenti per aiutarli a uscire da questa impasse. Ecco, e poi a volte quando i giovani mettono su famiglia sono aiutati dalle loro famiglie, quindi appunto non solo i singoli ma anche le famiglie stesse, quindi un cosiddetto welfare familiare, meno male che ci sono i nonni, ecco, a questo punto di vista. Allora, molto interessante questo articolo che si può leggere sul mensile il segno dell'Arcidiocesi di Milano, luglio-agosto, con l'intervista al professor Alessandro Rosina e alla professoressa Elena Marta, ma possiamo leggere gli articoli della cara Laura anche su Famiglia Cristiana, su Credere, quindi insomma a 360 gradi. Quindi torneremo, cara Laura, a chiamarti, a disturbarti in questa estate 2022, perché sono davvero preziose le tue parole, i tuoi pensieri e quello che scrivi. Grazie davvero per aver scelto anche di averlo condiviso con noi di Padre Pio TV. Grazie e buon lavoro. Perché spesso si parla soltanto di questo problema riferito ai giovani del sud, invece non è così, anche nei giovani del nord c'è una percentuale molto alta, per cui non demonizziamo sempre il sud, il mezzogiorno d'Italia, insomma, per la disoccupazione e questo problema dei NIT. Purtroppo è un problema endemico che riguarda tutto il nostro paese. Quindi rimbocchiamoci le maniche tutti quanti, insomma, dal nord al sud. Ecco, benissimo. Anche in questo caso appunto non c'è divisione. Grazie ancora Laura Badaracchi per essere stata con noi quest'oggi. Grazie e buon lavoro. Grazie, grazie a voi, grazie a voi. E allora, noi proseguiamo il nostro tempo d'estate, andiamo nuovamente in pubblicità, poi apriremo uno spazio dedicato al perdono del Gargano. Questa due giorni, il 30 giugno, primo luglio, che appunto si è svolta tra Monte Sant'Angelo e San Giovanni Rotondo. Quindi restate con noi. E questo è tempo d'estate su Padre Pio TV. Da lunedì al sabato, dalle 10.30 fino alle 11.30, vi accompagniamo verso la Santa Messa in diretta dalla Chiesa di San Pio. E allora, come vi dicevo, prima di andare in pubblicità, facciamo riferimento ad un evento della scorsa settimana, il perdono del Gargano, due giorni, 30 giugno e primo luglio, con workshop musica, ma soprattutto il cuore centrale di questa due giorni è stato il cammino da Monte Sant'Angelo a San Giovanni Rotondo. E siamo collegati in videochiamata con Cerignola, dove c'è Francesca Tufariello, che ha partecipato insieme a suo marito al perdono del Gargano. Ciao Francesca, benvenuta. Ciao Paola. Ciao Cara. Allora, perché ho scelto te a raccontare come è andata questo pellegrinaggio, questa camminata? Perché casualmente ho intercettato la tua mail, cercavi di avere informazioni sul perdono del Gargano, non avevi Facebook e quindi ti ho mandato una mail, ti sei messa in contatto con il comitato organizzatore e in qualche modo ho realizzato questo desiderio di prendere parte al perdono del Gargano. E così ho detto bene? Sì, sì, ha detto bene. Allora, è stata pesante, è stata dura? Le temperature non vi hanno aiutato? No, vabbè, sì, faceva abbastanza caldo, poi un tasso di umidità la sera abbastanza elevato, però ne valsero pena. Ecco Francesca, come è nata l'idea di partecipare a questo pellegrinaggio, a questo cammino da Monte Sant'Angelo a San Giovanni Rotondo? Ti lega una devozione particolare a Padre Pio, all'Arcangelo San Michele? Sì, è una devozione particolare sia a Padre Pio che a San Michele. Poi ne avevo sentito parlare anche negli anni precedenti, il tutto poi si era fermato in tempo di Covid, adesso volevo partecipare, riprendendo un po' le cose normali, volevo partecipare a questo perdono del Gargano, che ne avevo sentito parlare già da tempo. E allora è deciso, beh, il 2022 è l'anno giusto. Mi hai inviato anche una foto, ecco, ringraziandomi, insomma, per averti messo in contatto con il comitato organizzatore, che ti ritrae con tuo marito, mentre appunto fate questo cammino, questo pellegrinaggio da Monte Sant'Angelo a San Giovanni Rotondo. Eccovi qua. Come si chiama tuo marito, Francesca? Luigi. Luigi, ecco, anche con il cappellino, con lo zaino, con la maglietta, e avete fatto questo percorso. Come è andata? Ci sono stati, come si è svolto? Perché io quest'anno non c'ero, c'ero nel 2018 e nel 2019. Ci sono stati momenti di preghiera, canti che vi hanno accompagnato? Sì, i frati sono stati ben organizzati, cioè hanno organizzato tutto proprio alla perfezione. Momenti di preghiera, momenti di canto, poi il fatto che facesse così caldo, facevano delle soste, quindi distribuivano acqua, è stato abbastanza fatto bene. Ecco, quindi in qualche modo ci fa ben sperare che potrai prendere parte anche alla prossima edizione del Perdono del Gargano. Speriamo. Senti, un'ultima cosa, vediamo anche delle belle immagini realizzate da Saverio Piedicosno del drone, ecco, mentre vi riprende, mentre riprende i pellegrini in cammino. Il momento dell'arrivo a San Giovanni Rotondo, sai, il momento in cui si bussa alla porta della chiesetta antica e quindi i pellegrini poi entrano piano piano. È stato suggestivo, è stato emozionante. Sì, tantissimo Paola, perché il fatto di bussare come un umile peccatore, quali tutti siamo, è stato sì, è stato bellissimo, sì. Molto emozionante. Quindi davvero ci fa piacere aver ascoltato la tua testimonianza che hai deciso appunto di condividerla con noi e speriamo che appunto queste tue parole possano convincere anche altre persone a prendervi parte per l'edizione 2023. A Dio piacendo sempre, come ogni tanto ci piace dire. Grazie Francesca, grazie anche a tuo marito Luigi che salutiamo. Grazie a te Paola, grazie a tutti voi. Fa presto e continua a seguirci su Padre Pio TV. Ecco, ricordiamo poi che questa puntata di Tempo d'Estate non solo andrà in replica ma sarà disponibile più tardi sui nostri canali social, sul canale YouTube della nostra emittente. Grazie ancora Francesca per averci seguito. Ciao, presto. Ciao, cara. Ultima parte di Tempo d'Estate è quella che poi ci porterà alla partecipazione della Santa Messa delle 11.30 e andiamo per qualche istante a Roma. Grazie a questa foto che ci arriva da una telespettatrice che si chiama Maria che ci saluta e ci ringrazia e ci invia questo scorcio bellissimo della città eterna. Non c'era neanche bisogno che appunto dicessi che si trova a Roma e della Fontana di Trevi perché davvero è una foto che parla da sola. Quindi grazie Maria per questa foto e continuate a inviarci i vostri WhatsApp, cartoline, mare, montagna, città, lago, dove volete, anche dal balcone di casa vostra, 331-737-8033. E allora, ricordato questo, andiamo adesso a fare un breve giro di aggiornamenti. Non ce ne sono di significativi, ma andiamo sull'Ansa dove sono riprese questa mattina le ricerche dei dispersi della frana di ieri con lo stesso sistema utilizzato ieri. Saranno utilizzati quattro droni, due nella parte alta e due in quella medio-bassa del seracco precipitato, quindi questa parte enorme di ghiaccio che si è staccata dalla montagna. Poche le speranze per i dispersi, l'enorme massa di ghiaccio e roccia ha restituito finora sette vittime e otto feriti, due dei quali in maniera grave. Mancano all'appello della strage 13 persone, di cui tre straniere. E c'è sollievo invece per i cinque escursionisti che si sono fatti vivi nella seconda giornata di ricerche. Un bilancio ancora parziale per quella che è già passata la storia come la più grave tragedia della montagna italiana e che fa paura agli stessi soccorritori, scrive Lanza, costretti a interrompere ieri per alcune ore le ricerche a causa del maltempo e indotti ad agire con estrema cautela su una superficie insidiosa e a rischio di ulteriori movimenti e crolli. E intanto è allerta per il rischio di crolli da altri ghiacciai, è scattata in Val Ferré. Il rischio riguarda un ghiacciaio sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco a causa del temporale previsto in serata. E sempre a proposito di tragedie in montagna, due alpinisti sono morti sul Cervino, sempre notizia che da Lanza, probabilmente due alpinisti di nazionalità svizzera sono morti a seguito di una caduta sul Cervino. I corpi sono stati recuperati questa mattina dal soccorso alpino. L'allarme era scattato ieri per il mancato rientro a Valle dell'Accordata. I due sono precipitati nella zona della cresta del Leone per circa 400 metri. I corpi sono stati trovati a 3.100 metri di quota. E allora, questi dunque gli ultimi aggiornamenti. I corpi sono stati trovati a 3.100 metri di quota.